Un capo in gamba è innanzitutto una persona che valorizza la sua competenza, cioè è competente, si aggiorna nel campo dove deve svolgere il suo compito. Il capo, per potersi definire capo, è una persona, un uomo, una donna, che riesce ad avere la comprensione del tutto. Non comprende solo il suo pezzo, comprende il suo pezzo dove si colloca, sia all'interno dell'organizzazione, sia all'esterno dell'organizzazione, perché soltanto se capisce il funzionamento dell'intero sistema, riesce a spiegare ai suoi collaboratori perché le cose erano fatte in un modo e non in un altro, se no è semplicemente l'applicazione di un manuale. Il capo in gamba è un capo che sa innovare, che sa trovare soluzioni nuove a problemi vecchi, o soluzioni nuove, molto spesso a problemi nuovi, che certe volte non è che implicano l'invenzione, certe volte basta la scoperta, basta copiare chi fa quello stesso mestiere meglio di noi, oppure basta copiare chi fa cose simili in altri settori. capo è uno che sa che deve dare l'esempio per primo, non può chiedere agli altri quello che non fa lui. Il capo è un signore o una signora che pur essendo più in alto si sente al servizio e non è teoria, è veramente un'attitudine mentale delle persone che gli sono stati affidati. Il capo in gamba, l'abbiamo detto e dobbiamo sempre ricordarcelo, è un capo che accetta un ammontare di errori fisiologico, perché tu non puoi chiedere ai tuoi di tentare, innovare, sperimentare, se poi non accetti un certo numero di errori e di fallimenti, ma il mondo va avanti per tentativi, errori e ricambio di strada e quindi il buon capo deve sempre ricordarselo. Il buon capo è un signore o una signora che di fronte a un problema non ha più pace finché non si risolve e se è capace di risolverlo deve risolverlo lui o se no deve metterlo in mano a chi lo può risolvere, mai nasconderlo, rimandarlo o semplicemente pararsi la schiena. Stessa cosa per le decisioni, un buon capo è uno che di fronte alla necessità di prendere una decisione, non ha pace finché non prende questa decisione e tutte queste cose, naturalmente avere tutte queste caratteristiche non è che sia ovvio, però tantissimi in questa stanza hanno già dimostrato di avere queste caratteristiche.